qua la guida futura ma è entrata a rettilario no? ma no, come dovete fare di vedere il caffetto è il rettilario è il rettilario un'inguana sembra fin'io no, quella non è un'inguana sembrava un'inguana Quando poi muore il gatto che mi ha messo allo? Fate quello che vorreste. Già, sono nella vostra città. Bene, guarda che minuti! Grazie. Mi spegni l'angelo. No! Non c'è una bella? Non c'è una bella? Non c'è una bella? Lei, si muore il gatto? Questo è un po' di pianto, quello di troppo. Qui è una storia da qualche parte. Non è così. Non è così, non è così. E' là dentro. E' la piccola. Forse un po' che ci assomiglia un po'. E' un po' di più. Il pitone. Questo è? Il pitone. Guarda che se non li vediamo non è questo. Dov'è? Dov'è? Un po' di più. Il pitone dell'acqua. Un po' di più. Un po' di più. Il quaderno. Il neopardano. Il neopardano. Non vede. Ma c'è una pantana. Ma dove lo vedi? Ah, laggiù i fonsi! Un po' di più. Il neopardano. Il mio fratello mi ha carezzato un serpente, ha detto non è viscido, è molto morbido. Non lo metto in dubbio che è molto viscido. Guarda questo, siamo una coppa. Oddio che ansia. Vorrei prendere e fare tutto. Sì, certo. Questo è il cane con la pelle. Certo. Non lo metto in un'altra parte. 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 Se volete vedere la parte? Ragazzi, se volete vedere... Se volete vedere la parte perfetta dell'acqua, vedete qua. Molto se è un aspetto di là. E non c'è. E non c'è. E' vero Ma cosa c'è la Ah no, si vede la destra Ma cosa c'è la Ah no, si vede la destra 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 Ah no, si vede la destra